L'università ha dato un suggerimento a Brescia, capitale italiana della cultura, di fare il pendolo di Foucault come esperienza di fisica a livello proprio conosciuto, a livello anche mondiale, nella cattedrale di Brescia. Sarà l'aretino Fausto Casi, presidente del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo e tanto altro, a realizzare l'esperimento scientifico del pendolo di Foucault nella cattedrale di Brescia, città della cultura 2023, assieme a Bergamo. Un esperimento, il pendolo di Foucault come tutti sanno, è lo strumento che riproduce il moto della terra che Casi attuò nel 2006 nella cattedrale aretina in occasione proprio dell'inaugurazione del MUMEC. Nel dicembre 2006 abbiamo voluto ricordare il primo anniversario dell'apertura di questo museo che è stato aperto a dicembre 2005. Nel dicembre 2006 abbiamo realizzato questa grande esperienza che è scientifica ma che è anche umana, voglio dire, perché ha dato a una dimostrazione intanto della serietà professionale e scientifica del nostro museo che è in grado di fare cose che tanti altri non hanno neanche provato a fare, perché in Italia sono stati fatti 4-5 esperimenti dal 1851 quando Léon Foucault l'ha fatta al Pantheon a Parigi. E devo dire che sono state fatte a Roma, due volte a Firenze, altre volte un'altra volta a Padova, ma mai nessuno l'aveva fatta ad Arezzo per esempio. E noi siamo entrati negli annali delle prove del pendolo di Foucault come esperienza scientifica. Stavolta però la cattedrale ha altezze ben più importanti, una bella sfida dunque per casi che dà lustro anche alla città di Arezzo. Quando si è stabilito che l'esperimento si doveva fare nella cattedrale nuova, si chiama il Duomo Nuovo di Brescia, che sono andato a vedere un sopralluogo che è alto 65 metri, quindi praticamente l'unica possibilità di attacco era in cima a una cupola tipo Brunelleschi, quella di Firenze, che in cima alla cupola c'è un lucernario, in questo lucernario che è di 4,50 metri di diametro, metterci un ponte a croce, cioè ricreare praticamente una sospensione, un qualche cosa, un pavimento praticamente, sul quale attaccare le mie apparecchiature su questo pavimento in modo che si possa mettere il filo attaccato in un meccanismo che io ho realizzato già 17 anni fa e ha funzionato, con questo meccanismo il filo attaccato lì che va a percorrere 65 metri fino a terra. Per cui è la città di Arezzo che sposta il suo pacchetto culturale, lo porta con orgoglio in questa grande città di Bresciana e che noi faremo questo esperimento alla presenza di tutti i bresciani che vogliono.